Bella raga, so data Ho ordinato una pizza su Glovo Ora la faccio vedere E' una pizza bianca, a base bianca con prosciutto crudo Che mi è sempre piaciuta Poi insieme al menù ho pagato 10 euro Ci stavano... Ora faccio vedere, guarda eh Ci stavano due olive scolane Quelle là non so che cazzo so E due... Questi so, oggi non mi ricordo i nomi Vabbè sicuramente lo saprete Poi, questa era pizza Sembra... Mazza quanta fagialla al telefono No, non va bene E poi ho preso una buschetta per arrivare a 12 euro In modo da non pagare le spese di spedizione Vabbè sembra un pacco Amazon Questa è una buschetta col coso Col patè d'olive E una Pepsi Spesa in totale 12 euro e 50 Allora il ristorante si chiama Pizza Jet Io sto a Roma Più o meno vicino al Pigneto Non vi dico dove ovviamente Non ci ha messo tanto a portarmi la pizza E... Mo vi faccio sapere com'è Allora È molto salata Questo è l'unico aggettivo che mi viene Ti rivi? C'è poco bordo Come si chiama il cornicione Come cavolo lo chiamate voi Io lo chiamo bordo Però è buono La fine A me mi piace Poi sono tutti soggettivi gusti E io non sto capace con gli aggettivi Regà Un giorno mi compro Un dizionale Sinonimi al contrario Incomincio a distruggervi Di sinonimi aggettivi Bella Questa è lo È aliva scolana A me mi sembra buona Sì È Ma è fresca Nel senso non sembrano Ci sono quelle che sono tipo dure O so fredde dentro Questa è buona Questa invece è la crocchetta Ecco come si chiamava A me i crocchetti sinceramente Non mi fanno appazzire Però C'è la sto venuta 10 euro Dentro c'erano due crocchetti Due olive E questa è metà che sono mozzarella Vediamo Fritte Vediamo I mortacci Sì regà Mi sono fracicato Era una mozzarella Fritta Questa invece è Una fetta dei pane Con E il patea d'olive Vabbè Beh penso dell'euro spin Spalmato sopra Però Ma la mangio stessa Mi piace Pagata questa Pagata Pagata Arriva ai 2 euro E 50 in più Questo In questo Format Ci voglio mettere anche un po' di ASMR Ah no Si chiama Mookbang Scusa Ok basta Allora sono pienamente soddisfatto Allora sono pienamente soddisfatto Non darò un voto da 1 a 10 Io ho un'altra scala Per dare dei voti Per me è un Molto buono Mi è piaciuto Mi è piaciuto tantissimo Ovviamente Poi dipende anche dai vostri gusti Però Era Ma chi lì Era veramente Veramente ottimo E poi si Si chiama Pizza Jet E sono stati veramente veloci Quindi ve la consiglio Se siete di Roma Zona più o meno Pigneto Secondo me Siete coperti E provate Siete coperti